La colazione è il pasto più importante della giornata perché ci fornisce le energie necessarie per affrontarla e mette in moto il nostro metabolismo. Ma cosa possiamo mangiare a colazione per aumentare il nostro metabolismo e di conseguenza accelerare la perdita di peso? Sicuramente dobbiamo partire dalla base, ovvero deve darci l'energia necessaria ma senza favorire l'accumulo di grasso. Se amate il dolce potete optare per una colazione ricca di fibre composta da pane e fede biscottate integrali con marmellate di frutta al 100% accompagnate dal latte vegetale oppure dello yogurt con muesli e frutta fresca di stagione o ancora del porridge, un preparato a base di avena, latte vegetale e frutta. Se invece preferite una colazione salata vi consiglio un bel toast integrale con l'avocado. Da evitare invece gli alimenti industrializzati ad alto contenuto di grassi e di zuccheri come ad esempio lo sciroppo di glucosio fruttosio o malto, tutti ingredienti facilmente reperibili nei prodotti confezionati da prima colazione. Per questo è anche molto importante controllare sempre la lista degli ingredienti prima di acquistare. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al canale per rimanere sempre aggiornati.